Tragedia sul San Bartolo, uomo muore schiacciato dall'albero che stava tagliando Ancora grave il tavugliese ferito nell'incidente al teatro di bottega Nadia Storti, nuovo direttore dell'azienda sanitaria pesarese Lions e Renco restaurano la madonnina dei cappuccini Gradara, museo a cielo aperto di arte contemporanea Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Rossini News Edizione del telegiornale di mercoledì 31 maggio Che è anche l'ultima edizione con l'orario al quale siete stati abituati in questi anni L'orario delle 19.40 con replica alle 20.40 Da domani infatti vi ricordiamo che da giovedì 1 giugno Il Tg Rossini News comincerà con la sua prima edizione alle 19.30 E con la sua prima replica alle 20.30 Questa sera intanto apriamo il Tg occupandoci purtroppo di cronaca Perché si è consumata una tragedia questa mattina sul parco San Bartolo Dove un uomo di 58 anni è morto schiacciato da un tronco d'albero Sul quale stava effettuando un lavoro di manutenzione del verde L'incidente è avvenuto attorno alle 11.30 La prima curva della panoramica avvenendo da Pesaro Poco dopo i ristoranti Falco e Belsit Nella scarpata sottostante il sentiero che conduce verso Baia Flaminia Ad allertare i soccorsi è stato un passante che stava transitando su quello stesso sentiero Sul posto l'ambulanza del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso Sconvolti i familiari accorsi sul posto assieme a pattuglie dei carabinieri e dei forestali Che hanno avviato le indagini sulla dinamica che ha condotto al tragico decesso E purtroppo non è il primo incidente di questo tipo in lavori di potatura Così come continuano a ripetersi diversi incidenti molto gravi in ambito industriale e edilizio Come quello che vi abbiamo raccontato il 15 maggio scorso Corso ad una giovane tavugliese durante i lavori di costruzione del teatro di bottega di Vallefoglia Un giovane che come possiamo vedere nelle servizie di Edoardo Razzi E' tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni Si trova nel reparto di anestesia e rianimazione di Ancona Marco Cuccarini, l'operaio edile di 26 anni di Rio Salso Che lo scorso 15 maggio è precipitato da un'altezza di circa 8 metri Nel cantiere che vede la realizzazione in corso del teatro di bottega L'ennesimo infortunio sul lavoro, causato in questo caso da una caduta nel vuoto Che è costata Marco due traumi cranici, diverse costole rotte, il bacino incrinato La frattura dei polsi e il danneggiamento dei polmoni, di cui uno è stato perforato Il cuore è perfettamente funzionante e non c'è stato alcun interessamento delle vertebre Il giovane operaio si trova attualmente in coma farmacologico Ma negli ultimi giorni, dopo le prime ore preoccupanti successive all'incidente Sembrerebbe aver dato dei piccoli segnali incoraggianti Il ragazzo sta riacquistando una buona percentuale di respirazione autonoma Questo è quanto i medici hanno comunicato in queste ore alla famiglia Se è chiara la cartella clinica di Cuccarini, per nulla è stata resa trasparente la dinamica dell'incidente Erano circa le 11 del mattino quando il giovane lavoratore Sotto contratto come apprendista dal 2021 con la ditta Mulazzani Impresa incaricata a completare il teatro comunale Giovanni Santi di Bottega È precipitato per cause in vie d'accertamento dal secondo piano nel vuoto dell'androne interno al cantiere Immediatamente è stata allertata l'eliambulanza che ha trasferito il ferito all'ospedale di Torrette Tante sono le domande senza ancora una risposta Come ha fatto Marco a precipitare? Che protezioni di sicurezza indossava? Quali autorità sono intervenute? Ma soprattutto perché il cantiere è ripreso e non è mai stato interrotto? Lasciamo la cronaca e passiamo alla sanità Ieri sera sono infatti arrivate le nomine da parte della Regione Marche dei 5 direttori generali che presideranno altrettante aziende sanitarie territoriali Nata ad inizio 2023 a ruota dell'azzeramento dell'Asur unica regionale Dunque finisce il mandato di questi sei mesi circa di Gilberto Gentili da commissario straordinario della sanità di Pesaro e Urbino Gentili è infatti stato incaricato del ruolo di nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Fervo A dirigere Pesaro Urbino sarà invece Nadia Storti 65 anni dirigente di lungo corso della sanità marchigiana compresa la recente direzione dell'Asur regionale nei delicati anni della pandemia Nadia Storti fino al 16 luglio sarà anche commissario straordinario dell'azienda sanitaria di Ancona È stata probabilmente il simbolo pesarese dello scorso terremoto del 9 novembre Parliamo della statua della Madonna dei Cappuccini profondamente danneggiata dal sisma dello scorso autunno Ora però sono partiti i lavori di restauri promossi dal Lions Club Pesaro della Rovere Oggi io rappresento solo il mio club ho l'onore di rappresentare il Lions Club Pesaro della Rovere che si è subito attivato per il restauro di questa statua questo simbolo che è un simbolo per la città è diventato anche il simbolo del terremoto del tragico sisma che ha colpito la nostra città lo scorso 9 novembre un sisma che ha scosso la città, ha scosso i parrocchiani e questa statua crollata ha fatto emergere in tutti noi la necessità di partire subito e attivarci per far qualcosa affinché ridonasse alla città questo simbolo crollato A livello burocratico l'iter è stato abbastanza lungo sia il coinvolgimento con la soprintendenza che ovviamente è stata interpellata per questo restauro oltre al coinvolgimento di quelli che potessero essere i tecnici per la realizzazione di questo restauro tecnici che non è stato facile trovarli perché i codici che autorizzano questi tecnici a mettere mano su queste statue sono particolari quindi abbiamo messo in gara prima cinque fornitori poi tre, siamo riusciti ad arrivare a individuare l'azienda di Lugo di Ravenna che permetterà la realizzazione di questo restauro Sinergia che ovviamente grazie anche all'impegno professionale messo in campo dal nostro socio Stefano Sanchioni nonché anche Melvin Jones, Lions ha permesso di mettere in campo attraverso la sua professionalità anche un'importante azienda pesarese la Renco che da subito si è dimostrata sensibile a questo nostro service e ha voluto partecipare attivamente con un contributo per noi molto importante Il restauro avverrà in due fasi la prima fase sarà quella del recupero del frammento distaccato che si trova conservato all'interno del convento dei Cappuccini e poi in una seconda fase dove verrà ricollocato dopo aver fatto il consolidamento nella calotta diciamo cranica della Madonnina quindi l'operazione sarà abbastanza complessa perché sarà gestita anche con dei carelli elevatori di una certa dimensione per contenere il numero di persone che possano sostenere il peso di questo frammento abbastanza grande e verrà a questo punto messo in sicurezza con delle resine speciali e con dei perni che possano garantire appunto l'adesione alla scultura Una parrocchia che vive intensamente la vita di fede la vita cristiana e quindi avere anche questo simbolo Maria Immacolata qui proprio in modo così visibile è stato anche questo un momento molto bello e adesso che si è rovinata col terremoto è stato un dolore, una sofferenza e tutti sono contenti nel poter rivederla ecco rimessa nuovo anche più bella di prima I lavori dovrebbero ultimarsi entro fine giugno Utilizzo un condizionale perché ahimè le condizioni meteorologiche guideranno loro un pochino i lavori così come hanno determinato l'inizio di questi lavori perché il lavoro di restauro sarà effettuato all'aperto e le condizioni necessarie affinché questo restauro possa essere effettuato sono una temperatura abbastanza costante e possibilmente poche piogge Sapevamo già che nel mese di maggio ahimè ci sarebbero stati forti rovesci quindi non siamo potuti partire prima altrimenti l'avremo fatto già nel mese di maggio ma dovrebbero iniziare subito dopo il 4 di giugno e se tutto procede come da programma entro fine giugno cercheremo di fare questa inaugurazione di svelamento della statua ridonandola in tutto il suo pieno splendore alla città di Pesaro E Pesaro si prepara a onorare la festa della Repubblica celebrazione del 2 giugno che quest'anno si terranno in piazza del popolo in una festa verso la quale la prefettura invita alla massima partecipazione cittadina Non solo cerimonia militare non solo autorità civili e istituzionali il prossimo venerdì 2 giugno la festa della Repubblica vuole essere festa del popolo e festa della gente lo ha fortemente voluto il prefetto Emanuele Sevaere Agreco che alla sua prima celebrazione chiama raccolta l'intero territorio ad onorare l'ordinamento decretato dal referendum del 1946 Sarà festa in musica con canti e balli che coinvolgeranno gli istituti Volponi e Pascoli di Urbino Mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico perché la Repubblica siamo tutti la Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano Nella cerimonia saranno conferiti 21 riconoscimenti fra onorificenza al merito della Repubblica medaglie d'onore e medaglie di bronzo al valore civile Una festa del 2 giugno che vede come motore organizzativo l'esercito col 28esimo reggimento Pavia che ha realizzato anche il manifesto dell'evento Siamo abitati a cerimonie un po' troppo formali la cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica la festa della festa del popolo non è la festa solo delle istituzioni non è un momento solo formale è giusto che ci sia un momento di sana popolarità ed è quello a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti in particolare ai bambini che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria non solo un momento istituzionale I giovani saranno al centro della cerimonia dagli studenti ai circa 300 volontari che si stanno rimboccando le maniche per riparare ai danni dell'alluvione Quest'anno ha un sapore diverso perché ci sono a Pesaro oltre 300 volontari che hanno dato disponibilità per aiutare le persone in difficoltà che hanno bisogno in questo momento alcuni di loro stanno spalando fango aiutando a liberare cantine immobili invasi dall'acqua e questa giornata è dedicata anche a loro perché si percepirà ancora più densa e ancora più forte la grande solidarietà che permea nel nostro paese che quotidianamente viene spesa per le persone che hanno bisogno e che in questa giornata dobbiamo assolutamente ricordare e celebrare quindi abbiamo invitato e inviteremo i 300 volontari che hanno dato disponibilità confidando nella loro presenza perché a loro va il ringraziamento in particolare in questi giorni la nostra direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi è stata ospite del comando della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino proprio assieme al colonnello Paolo Brucato insediatosi al comando provinciale lo scorso novembre è stata avviata la collaborazione della nostra emittente rivolta alla divulgazione di tutte le azioni più importanti delle fiamme gialle sul nostro territorio il colonnello Brucato è stato esperto della Guardia di Finanza presso l'ambasciata italiana in Argentina e si è complimentato col lavoro della nostra realtà televisiva dicendosi altresì sorpreso di come sia l'unica TV con sede nella città di Pesaro In vista di Pesaro capitale della cultura 2024 l'amministrazione comunale di Pesaro si organizza per avere una città sempre più pulita soprattutto nelle aree più frequentate viene infatti attivata ora in centro storico e nella zona mare la nuova mini spazzatrice elettrica che il comune ha richiesto a marche multiservizi per potenziare la pulitura delle vie più strette e delle parti più complesse da raggiungere per i normali mezzi in dotazione si tratta di un mezzo dotato di spazzole rotante ma con funzione anche di aspiratutto inoltre dotato di una lancia che spruzza acqua e detersivi specifici ad esempio prodotti con quegli enzimi utili a eliminare i cattivi odori sarà efficace per la pulizia delle deiezioni abbandonate nelle viuzze del centro e di quei tratti di bicipolitana che percorrono il lungomare ed ora ci occupiamo di arte e cultura con il borgo di Gradara che da questo weekend e per tutto il prossimo mese torna ad essere un straordinario museo a cielo aperto grazie all'evento Gradara Contemporanea La creatività di artisti emergenti o già affermati sfumando tra uno stile antico e moderno sarà al centro della terza edizione di Gradara Contemporanea rassegna d'arte che si rivolgerà a un pubblico nazionale e internazionale dal 2 di giugno al 2 di luglio Quest'anno visto il successo delle due precedenti edizioni il comune di Gradara e Gradara in 9SRL che è la partecipata unica hanno deciso di entrare nella combinazione e creare questo mese di eventi tutti concentrati attorno a questo contrasto tra l'antico che è rappresentato dal Borgo Storico di Gradara e il contemporaneo dell'arte e degli artisti siamo particolarmente contenti di avere inoltre un ulteriore dialogo che è quello tra gli artisti nazionali e internazionali che vengono esposti nelle quattro sedi espositive e invece un artista delle Marche Luigi Toccacieli che quindi entra in dialogo e porta anche la vocazione del nostro territorio a confronto con quella di altri grandi maestri internazionali la rassegna è aperta tutti i giorni nel pomeriggio quindi i visitatori di Gradara potranno accedere gratuitamente a tutte le sedi espositive tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 e dal 15 giugno abbiamo anche l'orario serale e ci saranno alcuni appuntamenti con cadenza settimanale che saranno conferenze abbiamo anche un concerto che verranno resi noti a breve quindi cerchiamo diciamo di animare in tutti i sensi il Borgo di Gradara passando attraverso i vari canali dell'arte dell'intrattenimento della musica e anche del dialogo tra gli operatori quattro sono le sedi predilette del Borgo Storico di Gradara per accogliere questa edizione dalla Rocca De Magnale alla Casa del Gufo da Villa Conventino al rinnovato Museo Marv soprattutto valorizza il nostro neonato museo civico il Marv Museo d'Arte Rubini Vesine e lo certifica come spazio espositivo di eccellenza e quindi creando un'ulteriore attrattiva per le persone che ci vengono a visitare non soltanto il monumento la roca che resta il punto più importante di visibilità di attrazione culturale ma anche Palazzo Rubini Vesine diventerà sempre di più un luogo un attrattore culturale per Gradara da Gradara e la sua arte contemporanea passiamo a Fano che invece fa un tuffo nelle atmosfere medievali grazie alla rievocazione I Malatesta a Fano prevista nel weekend a cavallo fra giugno e luglio diciamo che I Malatesta a Fano è una manifestazione ideata da Confcommercio tanti anni fa è stato assemblato un programma 30 giugno primo e 2 luglio molto importante legato alla storia dei Malatesta o dei Malatesti come si dice oggi ed è un evento eccezionale dal punto di vista turistico perché Confcommercio assicurerà una grande promozione a questa manifestazione beh sì è una pagina della nostra storia veramente importante che non è solo territoriale ma direi nazionale perché i Malatesta hanno rappresentato da Fano su fino a Bergamo e Brescia un momento importante della nostra storia non dimentichiamo che noi conserviamo di nostra proprietà i codici malatestiani che sono la prima testimonianza di contabilità fra l'altro dove abbiamo attinto anche elementi importanti mi viene in mente il documento che attesta che nel 1347 pagavamo delle spese per il carnevale quindi questa presenza queste manifestazioni questo ritorno è importante significa valorizzare la nostra città significa valorizzare la nostra storia che è un patrimonio straordinario che appartiene all'Italia appartiene alle varie realtà e che sono un valore aggiunto ormai siamo giunti al decimo anno di quello che è il palio delle contrade che quest'anno in occasione appunto del decimo anniversario ha deciso di cambiare veste ha deciso di intanto cambiare nome siamo andati a ricercare nella nostra storia negli eventi di Fano per andare a trovare quello che è il nostro progetto il nostro progetto è quello di incentrare la storia malatestiana che Fano è ricchissima ha tantissima storia medievale da raccontare e quindi abbiamo deciso appunto di rinnovare il nome e chiamare I Malatesta Fano grazie al comune di Fano alla regione Marche e alla Confcommercio che ci ha concesso anche la possibilità di riutilizzare questo nome abbiamo deciso di rinnovare oltre che il nome anche il format infatti troverete non ve lo svegliamo perché più avanti vi sveglieremo il programma troverete grandi novità a livello di zone che andremo a rievocare andremo a far vivere alla città ma anche ai turisti quella che è l'epoca medievale nella città di Fano che è da scoprire e da approfondire sicuramente fondamentalmente una grande manifestazione che richiama un periodo storico fondamentale della nostra città insomma parla della famiglia Malatesti nella quale abbiamo delle evidenze storiche eccezionali abbiamo bisogno di raccontare bene di più la nostra storia e una manifestazione importante come questa con un gruppo storico diciamo che filologicamente tratto accompagnato dal Centro Studi Malatestiani anche per i costumi e per le attività che andranno a fare ci dedicano un weekend completo con una serie di attività che toccano vari punti della nostra città e che quindi toccano Piazza 20 Settembre ovviamente la Corte Malatestiana con delle sorprese nel San Francesco che racconteremo più avanti con l'arricchimento della zona Pincio ecco ci aiuta aiuta le persone che saranno in visita nella nostra città a toccare tutti questi magnifici punti evidenze storiche malatestiane della nostra città questa manifestazione era stata pensata ed è stata fatta proprio per creare quella fiducia e quelle potenzialità nelle attività ricettive nell'attività del commercio delle imprese per creare quelle economie nel territorio che per noi sono importanti e fondamentali soprattutto nel periodo estivo quindi dare quell'impulso e quella fiducia a livello economico che ripeto per noi e per le nostre imprese è fondamentale le imprese che poi noi rappresentiamo tutti i giorni ed ora ci occupiamo del progetto Olive Jet si tratta di un progetto di innovazione tecnologica applicata all'agricoltura e alla formazione scolastica questa mattina infatti le nostre telecamere sono stati presenti all'istituto Agrario Cecchi dove sono stati presentati i risultati di questo laboratorio di olivicoltura innovativa che coinvolge anche l'università Politecnica delle Marche e il consorzio Olio DOP di Cartoceto formazione scolastica ricerca universitaria innovazione tecnologica e valorizzazione di un prodotto d'eccellenza come l'olio DOP di Cartoceto tutto questo è il progetto Olive Jet un progetto che abbiamo già seguito con l'avvio di un olivetto sperimentale qui all'istituto Agrario Cecchi dove tutti gli interlocutori si sono ritrovati oggi dall'istituto stesso all'università Politecnica delle Marche al consorzio DOP di Cartoceto per presentare i primi risultati di questo importante progetto che unisce scuola università e ricerca abbiamo aderito a questo progetto assieme all'università Politecnica delle Marche per preparare figure con elevata professionalità per i nostri studenti in fin dei conti abbiamo aderito per apprendere queste nuove tecniche e nuove tecnologie di coltivazione dell'olivo con la sensoristica applicata che poi abbiamo esteso anche ad altre e altre coltivazioni anche sul vigneto serve innovazione ma anche valorizzazione dei prodotti locali in questo l'olivo forse è una delle specie che più rappresenta le Marche abbiamo più di 20 varietà diverse e una di queste è proprio la varietà simbolo dell'olio DOP di Cartoceto cioè la ragiola nel campo poi sperimentale che poi i ragazzi seguono qui in azienda è possibile vedere già le piantine che stanno crescendo e hanno una differenza non so rispetto alle piantine tradizionali perché sono generalmente più piccoline in partenza poi crescono molto molto velocemente e in questa prima fase vengono protette da uno shelter cioè da uno schermo perché devono poter crescere senza avere troppa competizione delle piante vicine noi vorremmo con questo impianto fare capire che l'alta densità non è sinonimo di un'olivicoltura non rispettosa dell'ambiente o per prodotti di bassa qualità ma che è semplicemente un'altra modalità di fare olivicoltura che permette una riduzione dei costi soprattutto per quanto riguarda la raccolta perché può essere fatta con la macchina scavallatrice quindi veramente costi molto ridotti e tempi molto ridotti in questo modo è possibile fare addirittura una qualità anche migliore perché la raccolta è molto più rapida si evita il calpestamento a terra dei frutti e i frutti vengono immediatamente e velocemente portati al frantoio perché capire come è cambiata come si sono trasformate le varie tipologie quindi le varie forme di paesaggio serve anche per progettare pensare di sviluppare l'olivicoltura attuale insomma che deve tener conto sia degli aspetti produttivi naturalmente ma anche degli aspetti culturali turistici si parla di oleoturismo ormai qui abbiamo applicato una piattaforma informatica che fa essenzialmente due cose una diciamo da dei consigli tecnici come dicevo prima su quello che viene utilizzato e come è meglio utilizzarlo e due segue il consorzio di cartocetto nella tracciabilità dell'olio quindi dall'oliva diciamo al prodotto olio con l'università con l'UniVPM e con Agraria specialmente collaboriamo su molti progetti questo non è sicuramente l'unico ne siamo felici perché effettivamente ai ragazzi viene presentata anche una possibilità di orientamento futuro è un proseguo dei loro studi e quindi è sicuramente una cosa efficace per i loro per i loro studi sono dati evidenti che le professioni del futuro saranno legate sempre più alla tecnologia e quando noi lavoriamo in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche che ci aiuta a sviluppare sempre di più la tecnologia in agricoltura possiamo sicuramente consentire a questi ragazzi di avere un futuro in agricoltura cioè di vivere di agricoltura perché se non si vanno ad abbassare e ad abbattere alcuni costi che sono legati alla produzione e in questo ci viene aiuto la tecnologia come i droni come l'agricoltura di precisione l'irrigazione a goccia tutti questi elementi ci aiutano a risparmiare soldi e quindi a rendere maggiormente remunerativo il lavoro in agricoltura se questo non c'è l'agricoltura viene abbandonata quindi questi ragazzi in questo modo potranno avere una professione e concludiamo il nostro telegiornale con un'importante notizia di sport perché la Vispesaro ha ufficializzato il suo allenatore per la stagione 2023-2024 si tratta di una conferma quella di Simone Banchieri che era stato chiamato all'ultimo per il rush finale del campionato ma che ha convinto nelle uniche tre gare in cui ha diretto la Vispesaro e dunque oggi è stato ufficialmente annunciato dal direttore sportivo Menga si conclude qui Rossini News ma non si chiude l'informazione serale sulla nostra emittente perché per chi ci segue in questo TG in prima edizione già alle 20.10 potrete vedere lo speciale di approfondimento dedicato alla Università degli Studi di Urbino e al Career Day edizione primaverile che si è tenuto la scorsa settimana e poi a seguire l'informazione dedicata alla politica amministrativa quella di amministrando il nostro format che ci porta alle scoperte delle politiche comunali provinciali o in questo caso della politica regionale quella condotta dal consigliere regionale delle Marche Andrea Biancani che potrete approfondire questa sera alle 21.20 e poi con le tante repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini l'appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato sempre in diretta e poi ancora Rossini News che cambia ve l'abbiamo annunciato in apertura di TG ve l'abbiamo ricordato anche ieri ve lo ricordiamo anche ora dal primo giugno ovvero da domani nuovi orari per quello che riguarda l'informazione serale di Rossini News non più alle 19.40 ma la prima edizione con tanto di diretta Facebook è alle 19.30 le repliche alle 20.30 23.30 e mezzanotte e mezza e il giorno seguente alle 6.30 di mattina e alle 13.30 e dunque prendete nota domani su Rossini News ci rivediamo alle 19.30 col nuovo orario del nostro telegiornale si conclude invece qui questo spazio informativo vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV